Piero Biscotti, dopo due sconfitte, arriva un'importante vittoria per Risernia contro la Vastese. Una buona squadra in campo, una crescita di questi giovani che comincia ad essere tangibile. Mi fa piacere che si nota questo. La squadra sta crescendo domenica dopo domenica. Logicamente ci sono domeniche che non vinci, ma fa parte del gioco. Sono contentissimi di quello che hanno fatto oggi i ragazzi, hanno combattuto contro tutto e contro tutti. Risultato meritatissimo, soddisfatti al 100%. Non posso non farti una domanda sulla società. Sono arrivate le dimissioni del presidente Mario Mariani. Ora si dovrà un attimino riguardare l'organigramma. Ci state già lavorando. Cosa sarà nei prossimi giorni? Nei prossimi giorni, come dice l'iter burocratico, è stata indetta l'assemblea del direttivo per poter valutare e quindi vedere un po' quali potrebbe essere il futuro dell'Isernia. C'è stata la richiesta di dimissioni da parte del presidente, formalizzata, deve essere accettata. L'iter dice questo e poi si vedrà quale sarà il prossimo futuro sia per quanto concerne la figura del presidente sia per quanto concerne tutto il resto. Noi in questo momento siamo tranquilli, lo abbiamo dimostrato. Con tanto sacrificio stiamo andando avanti, ma tranquilli e sereni. I ragazzi hanno assorbito il colpo del campo basso in modo netto e concreto e anche l'altro colpo che è questo, accel sereno, delle richieste di dimissioni del presidente. Ma noi stiamo guardando già avanti, quindi i problemi non ce ne saranno.